ciao a tutti e a tutti oggi vi racconto una storia vi direte oggi cariotti amamore cariotti ematube porto notte di stampa che cosa ci racconta ciò vedere una borsa con scritto sopra soul body anima corpo tenuta abbastanza bene piena perché la utilizzo è una storia che viene sempre da dalla ricerca sulle sulle soffitte dove si mettevano le le cose che non si utilizzavano più per un certo tempo poi le riscopri e sogni e ricordi questa borsa risale a 1987 e volete vedere perché anzi la faccio per vedere è una borsa da palestra fatta molto bene molto resistente considerando siamo al 9 settembre 2020 quindi vuol dire 1987 stiamo parlando di 33 anni fa sul body a due vani per mettere le scarpe le cose le cose che vengono utilizzati magari qualche 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 guanto e poi dentro l'attrezzatura e ricambi fatta molto bene anche sotto cucita cucita ma la vera particolarità di questa borsa che poi ha una storia ovviamente poi ci sono i ganci triangolari per la tracolla e perché questa borsa è degli anni 80 volete vedere la differenza che c'è tra aprendo un vano che ho lasciato libero perché la utilizzo per andare alle terme adesso aspettate scusate che sto facendo tutto con una mano avendo questo vano avendo questo vano tu capisci perché le cose negli anni 80 e anche 90 perché stiamo parlando di questo periodo erano fatte fatte meglio e con più cura uno apriva la borsa e trovava guardate che meraviglioso tessuto era messo qui era cucito qui e anche dall'altra parte ve lo faccio vedere bene lo metto alla luce del sole guardate che fiori guardate che era meraviglioso è così anni 80 questi erano gli anni 80 ma la storia di questa borsa me la racconto perché per quanto mi riguarda risale a quando avevo 15 anni e cioè il 1987 quando io cominciai andare alla soul body la soul body era la più bella palestra di roma alla fine degli anni 80 e per i primi anni 90 cosa ricordo di quei tempi ricordo tante cose alcuni alcune persone ancora le frequento come il mio amico alessandro che sicuramente capirà questo questo video ho ritrovato la mia insegnante andavo con mio fratello e con mia mamma la mia insegnante di danza moderna la bravissima campionessa Laura Marco Tulli che tuttora è bravissima insegna e e poi cosa mi ricordo mi ricordo il proprietario però mi ricordo solamente si chiama il signor Augusto poi mi ricordo che facevo danza con alcuni professionisti eccezionali ballerini eccezionali c'era Daniele che era un ragazzo allora che avrà avuto una decina no forse 10 15 anni più di me adesso purtroppo l'ho perso di vista non so Daniele se vedi questa borsa ti metti in contatto con me perché ti ricordi quante quante lezioni abbiamo fatto mi piacerebbe sapere che fai dove sei 33 anni dopo stiamo parlando 1987 1991 92 io ho frequentato la soul body tutti venivano sul body e nella mia nel mio corso c'era anche mi ricordo patrizia pellegrino che poi intervistai tante volte nel corso del della mia carriera giornalistica ci sono c'era una bellissima fatta con fiorenzo fiorentini e poi c'era anche la collega che anche con lei ho l'amicizia su se non sbaglio su facebook laura cannavo bravissima figlia illustre di un grande papà ma la storia di oggi riguarda questa borsa che ha riaperto il lo scrigno del tempo dell'allenamento a 15 anni ho cominciato ad allenare in questa palestra la rimpiango c'era il medico c'era il medico sempre già hanno notato dette c'era il medico sempre in questa palestra sauna tutto c'era un bar magnifico dei cocktail eccezionali ha anche un saluto a beatrice che si allenava con me che mi ricordo e ora ci siamo risentiti anni fa e è la storia di una borsa a volte andando nelle cantine o nelle soffitte si trovano oggetti che possono essere riutilizzati e riamati magari che non hanno grosso valore economico anzi quasi per niente perché una borsa insomma voglio dire però sono sicuro che tante persone migliaia di persone rivedendo questo marchio soul body ricorderanno la storia di una gloriosa palestra che stava a testaccio accanto al vecchio quello che era il vecchio mattatoio e che ci ha reso tutti felici e personalmente mi ha avvicinato al mondo del fitness ciao